Il giorno della memoria 2024 non poteva essere una cerimonia consueta come siamo abituati ad ospitare in questa città. Come sempre le scuole sono in prima linea in quella che è la progettazione, il protagonismo in questa giornata importante che nel 2024 oltre alla cerimonia istituzionale si arricchisce anche di un palinsesto, di un programma molto più articolato che inizia al mattino con il consiglio comunale istituzionale e poi continua durante la giornata fino alla sera con l'ultimo appuntamento alle 9 sempre al teatro sperimentale con un contributo musicale dell'associazione Libera Musica e lo spettacolo monologo di Paolo Floris, storia di un uomo magro. Tutta la giornata come dicevo è organizzata insieme alle scuole e grazie a loro anche gli appuntamenti del pomeriggio e lo stesso consiglio comunale della mattina avranno la fortuna di avere la capacità e la possibilità di partecipazione delle studenti e delle studentesse alle tante iniziative tra cui la presentazione di un libro in Sala Rossa alle 16.30 dei lunedì 29 gennaio organizzato dalla nuova scuola dell'istituto professionale Benelli di Pesaro e poi ci sposteremo a Palazzo Gradari per l'inaugurazione di una mostra a Besa, un codice d'onore organizzato insieme al liceo Mammiani e al Santa Marta di Pesaro un programma molto articolato che vuole parlare quest'anno di un aspetto legato alla Shoah particolare che è quello dei giusti tra le nazioni l'immagine della locandina di quest'anno del giorno della memoria è frutto del lavoro di una scuola primaria di Villa Fastigi, dell'istituto comprensivo Galilei che già dallo scorso anno scolastico aveva sollecitato la creazione di un giardino dei giusti a Pesaro ho ripreso questa loro idea insieme all'assessorato Alfare cercheremo di portare a termine la creazione entro questo anno scolastico del giardino dei giusti a Villa Fastigi ma è stato anche un po' lo spirito con cui le scuole hanno affrontato la riflessione sul giorno della memoria quest'anno per noi la memoria è un senso civico non è soltanto ricordare quello che è stato nel passato ma guardare quello che di giusto e di corretto dobbiamo fare noi oggi anche per dare la possibilità alle nuove generazioni di guardare al futuro con più slancio e in questo mondo contemporaneo così complesso e anche tempestato di guerre qui intorno al nostro Stato è importante continuare a ribadire la posizione non solo dell'amministrazione ma di tutto un tessuto sociale della città che è sempre stato in prima fila per la pace, il dialogo e di conseguenza la speranza grazie a tutti